Ma se no i mi chè Né all'anime seppur moltissime persone me ne abbiano parlato Ma non mi sono informato neanche per quanto riguarda la trama L'unica cosa che ho conosciuto un po' di Ghost in the Shell È stato il videogioco, l'FPS online Che però appunto essendo un FPS Ha solo dei richiami al mondo di Ghost in the Shell Come alcuni personaggi o magari le armi Niente di più, niente di meno Questo video sarà privo di spoiler L'unica cosa che magari vi posso spoilerare e la dico subito già ora Questo è quello che ha pensato Scarlett Johnson alla fine del film Sono giapponese Ok questa era la recensione approfondita e dettagliata di Ghost in the Shell Spero che il video vi sia piaciuto Alla prossima Ciao cari, ciao cari, ciao cari Allora, parliamone seriamente Sono contento di essere andato al cinema Ed aver visto questo film Poiché la critica l'aveva fatto a pezzi Mentre ci sono delle notizie che purtroppo sono incontestabili Come ad esempio il flop ai botteghini O che magari proprio per questo flop Non abbia recuperato neanche i soldi investiti per essere prodotto Vorrei difendere Ghost in the Shell Dalle tante persone che l'hanno criticato Poiché a mio parere è un film di fantascienza Sci-fi del tutto meritevole Non è questo capolavoro Né tantomeno mi aspettavo di vedere un capolavoro Andando a vederlo al cinema Mi aspettavo un film con buoni effetti speciali E una trama decente E vedendolo ho potuto vedere ottimi effetti speciali VFX davvero fatti benissimo E una trama discreta Che per carità è anche abbastanza prevedibile Come si vede dal trailer La protagonista interpretata da Scarlett Johansson Sembra essere stata salvata da i buoni Ovvero la Hanka Questa azienda che permette In un futuro in cui la distanza che divide Uomo e macchina si fa sempre più breve Permette alle persone di poter potenziarsi Con pezzi cibernetici Ad esempio fa vedere una persona di colore Che si potenzia il fegato Mettendosi un fegato meccanico Per poter bere di più Cose molto utili Viene salvata da queste persone Che però riescono a salvarne solo il cervello E questo suo cervello viene impiantato In un corpo interamente robotico Essendo la prima del suo genere Avere mente, umana e corpo interamente robotico Viene assoldata dalla sezione 9 E diventa a tutti effetti Un'arma robotica ma allo stesso tempo senziente Poi inutile dire che Quelli che sembrano i buoni In realtà hanno tante cose da nascondere I cattivi che si sta combattendo In realtà poi non sono così cattivi Fin poi aggiungere a un finale Che sono contento che sia un finale conclusivo Non è un finale eclatante Un finale normalissimo Però sono felice che appunto Non abbia lasciato cliffhanger O comunque situazioni Da poter dire Oh no dovremmo aspettare un altro film Per vedere concluso questa storia Perché questo film è del tutto autoconclusivo Per quanto riguarda il film in sé Faccio lo stesso discorso delle soundtrack Ovvero Le soundtrack sono state degne di nota Per il mio all'inizio Epiche E alla fine per chiudere il film Nel mezzo ci sono stati alti e bassi E lo stesso vale per la trama All'inizio che veniamo introdotti In questo mondo futuristico sci-fi In cui però ci sono anche Delle apparizioni anacronistiche Ad esempio Auto degli anni 80-90 E il rapporto che vi era Fra l'umanità E la robotica Sempre più vicino Come dice anche nell'introduzione Questo confine è sempre più labile Era interessante Poi dopo questa prima parte La prima metà del film Era davvero lentissima Si sviluppava molto lentamente Al che sia io Che l'amico Con cui sono andato a vedere Al cinema Ci stavamo letteralmente Addormentando Per poi riprendersi Per poi ritornare un po' lento Insomma Tanti alti e bassi Per poi giungere Al finale E anche nel finale Ottime soundtrack di chiusura Tante persone hanno criticato Il fatto che appunto La protagonista fosse Scarlett Johansson Però sinceramente Come attrici occidentali Non saprei quale Avrebbero potuto scegliere Né tantomeno avrei voluto vedere Un live action Di Ghost in the Shell Perché non mi sono mai piaciuti Non so perché Non so che problemi abbiano Nella loro esecuzione Pur se rispettano Perfettamente la trama A livello di fotografia A livello di effetti speciali Non riescono a raggiungere I livelli dei film occidentali Davvero figo anche il personaggio Che sta a capo Della sezione 9 Che mi ricorda vagamente Hei Nishi Di Tekken 3 Non so se c'è anche In altri Tekken Probabilmente sì Era proprio figo Anche per come si comportava Non solo esteticamente E se non sbaglio E uno dei pochi Attori orientali Se non giapponesi Non lo so Del film Insieme a un altro Di questa sezione 9 Ovvero la task force In cui appunto È stata assoldata Come arma E come agente operativo In conclusione Vale la pena vedere Ghost in the Shell Assolutamente Sì Non vi aspettate il capolavoro Perché a mio parere Non lo è Ma non vi aspettate Neanche di vedere un film Così brutto Come la critica L'ha dipinto Poiché A parere mio È un buon film Con ottimi spunti Fantascientifici Sci-fi Qui è tutto da Tsunami E ora scusate Ma vado a mettermi Una m***a robotica PENI PENI Grazie a tutti